In questo Paese ci sono due entità, e solo due. Il governo e il non governo. Questo è G e questo è non G. Semplice. Che cos'è il governo? Il governo è tutto l'apparato pubblico, tutta l'amministrazione dello Stato. Questo è il governo. Tutto ciò che non è amministrazione dello Stato e apparato pubblico, cioè tutta la cittadinanza, le imprese, i bar, i negozi, i mestieri, i campi, i contadini, tutto quello che non è governo, è settore non governativo. Ciascuno di questi due settori, se ci pensate bene, ha esattamente la stessa divisione di ricchezza. Tutti noi abbiamo soldi e cose, la maglietta, la casa, il trattore, il computer, o appunto i risparmi in banca, o i debit in banca, perché sono soldi anche quelli. Allora, lo Stato ha denaro e cose reali, noi abbiamo denaro e cose reali. La domanda che ci dobbiamo fare è, dimenticandoci per un attimo lo Stato, qua dentro, all'interno di questo settore che siamo noi, chi crea denaro? Se noi ci mettiamo tutti quanti, pensiamo per comodità di ragionamento, immaginiamo che noi siamo il settore non governativo, cioè siamo tutta l'Italia, tutta l'Italia dei mestieri, delle aziende, delle professioni, dei cittadini, siamo tutti chiusi qua dentro. Allora, qui dentro, chi crea denaro? Chi è che è in grado di creare denaro? Perché vi faccio questa domanda? Perché dobbiamo capire come facciamo tutti noi ad acquisire più ricchezza finanziaria per avere un migliore reddito, per avere un migliore standard di vita, per avere più dutele, per avere più servizi, per avere tutto di più. Abbiamo bisogno di creare più finanza per questo. Chi di noi crea denaro? Qualcuno di noi ha la stampatrice di bigliettoni a casa, nessuno ce l'ha, se non a parte qualche falsario. Nessuno di noi ha la zecca, nessuno di noi possiede una banca. Noi abbiamo delle attività, quando un'attività commerciale fa soldi, cioè ha successo, è logico che quei soldi derivano da qualcun altro. Allora, se questa signora è un'imprenditrice e ha lanciato un prodotto che sta vendendo da pazzi, è perché qualcuno qua dentro glielo sta comprando. Quindi lei ha accumulato del denaro, ma qualcuno l'ha perso qui, gli è uscito dalle tasche, d'accordo? Cioè è logico immaginare e pensare, ed è assolutamente vero da un punto di vista economico, che tutto il denaro che circola qua dentro è semplicemente un giro di vasi comunicanti. Si alza da una parte e si abbassa da un'altra. Se qualcuno guadagna, qualcuno spende. Se qualcuno risparmia, qualcuno si indebita. Non c'è possibilità di far sì che tutti noi qua dentro allo stesso tempo cresciamo di denaro. E da dove viene? Qualcuno, se qui cresce, la deve calare. Se la cresce, qui deve calare. Non c'è pezza. D'accordo? Le banche qua dentro, e stanno qua dentro, le banche, creano denaro. Questo è vero. Chi lavora con le banche sa che le banche creano un denaro, però le banche creano anche indebitamento. Cioè per ogni singolo centesimo di denaro creato dalle banche esiste un indebitamento. Di nuovo si è alzata una colonnina e si è abbassata una colonnina da qualche parte. Neanche le banche possono creare del denaro al netto. Cioè un denaro che entri in questa stanza, che benefici tutti, senza che nessuno se ne sia privato o senza che nessuno si sia indebitato. Dentro non si crea denaro. È impossibile. D'accordo? Allora, come si fa ad avere più denaro qua dentro? E' giocoforza immaginale che è l'unica possibilità che un contenitore esterno da qua crei un valore finanziario e lo immetta qua dentro. D'accordo? E questo è quello che fa ogni singolo Stato al mondo attraverso quella che si chiama la spesa pubblica. Lo Stato, proprietario di una moneta, il dollaro, la sterlina, la lira, il marco, eccetera, crea questa moneta al lato della spesa, compra un ospedale qua dentro, paga gli operai che l'hanno fatto, l'azienda che l'ha fatto, paga l'indotto dei prodotti che sono stati venduti per fare quell'ospedale, costruisce una strada, paga stipendi a insegnanti, a consulenti, alla polizia, ai pompieri, eccetera. Ok? Quindi crea una spesa che entra qua dentro. Qui nessuno si è privato di un singolo centesimo nel momento in cui lo Stato ha deciso di costruire quell'ospedale. D'accordo? Quindi è il denaro che è entrato. Poi cosa fa lo Stato però? Fa un'altra cosa che è un po' meno carina. Tassa. Ok? E quindi prende il denaro che solo lo Stato può aver creato, perché nessuno di noi può creare le lire, i marchi, i dollari, gli ien, eccetera, prende il denaro che lo Stato ha creato, che ha messo qua dentro, e lo tira fuori da qua. Se ne riappropria. Attenzione al gioco. Allora è ovvio che se lo Stato spende 150 e tassa 100, ci lascia qua dentro al netto 50. Ok? Questo vuol dire che tutta questa cittadinanza italiana sia arricchita di 50, senza essersi privata di un singolo centesimo. Ha messo 150, ha tolto 100, ci rimangono 50 netti. Perfetto. Se lo Stato decide di mettere 100 e di togliere 100, qua dentro ci rimane zero. Siamo esattamente da capo. Non abbiamo un singolo centesimo di ricchezza finanziaria aggiunta. Non possiamo risparmiare niente, non possiamo reinvestire niente. Siamo nella stessa condizione di prima. Ok? Se poi lo Stato decide, sciaguratamente dal mio punto di vista, di spendere 100 e tassare 150, qua dentro andiamo a meno 50. Un anno meno 50, un anno meno 30, un anno meno 45, un anno meno 20, dove finiamo? Finiamo nello Zimbabwe. Allora, lo Stato che spende di più di quello che tassa e lascia 50 qua dentro per tutti noi, è in deficit di bilancio. Lo Stato che mette 100 e toglie 100 e ci lascia secco, fa il pareggio di bilancio. Lo Stato che spende 100 e toglie 150, fa il surplus di bilancio. Oggi tutti i media vi raccontano che la virtù dell'Italia sarebbe il pareggio di bilancio, cioè rimanere a secco, o il surplus di bilancio, cioè impoverirci anno dopo anno di 30, 40, 50, 60, 30, 20, 50, eccetera. Con quale insensata idiozia, dal mio punto di vista anche criminale, perché questa gente conosce benissimo l'economia e sa di cosa stanno parlando, con quale insensata idiozia si va convincendo i cittadini che fare un pareggio di bilancio fa il bene dell'Italia. Come fa a fare il bene dei cittadini un pareggio di bilancio? Lasciandoci zero nelle tasche. È impossibile, è matematica. L'abbiamo messo in Costituzione. Oggi nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia deve fare questa cosa, mettere 100 e togliere 100, mettere 150 e togliere 150, lasciarci sempre a zero. Questo è un impoverimento automatico della società, cioè sono gli stipendi stagnanti, i redditi stagnanti, i servizi stagnanti, le infrastrutture stagnanti in un arco di tempo di 10, 15, 20, 50, 60 anni. È impoverimento automatico. C'è un motivo per cui fanno questo? Sanno benissimo quello che stanno facendo. Vogliono riprendersi la ricchezza, non lasciarla a noi. Ma questo è un altro discorso. Stiamo sulla parte tecnica. Attenzione, detto questo, chiarito un attimo il discorso dei bilanci settoriali, i bilanci dei settori. Settore governo, settore non governo. Chiarito un attimo questo. Andiamo a vedere una terza cosa. Qua c'è un altro settore, che lo chiamiamo il settore estero. Il settore estero è un settore esterno a noi che siamo in questa stanza. Anche loro possono spendere da noi, con le frecce così, esattamente più di quello che ci tolgono. È chiaro che se comprano da noi più prodotti di quelli che noi compriamo da loro, è ovvio che noi gli diamo 100 soldi, loro ce ne danno 150, noi incassiamo 50. quindi è possibile che un paese possa, diciamo, bilanciare un governo che non fa il suo dovere, buttandosi disperatamente su questi signori qua. Però capite benissimo che un sistema di questo genere è totalmente inaffidabile, perché il settore estero, prima di tutto, può decidere di andare a spendere da qualche altra parte. Le dinamiche della globalizzazione fanno sì che adesso paesi emergenti che tutti conosciamo riescono a produrre qualità e tecnologia ormai quasi pari alla nostra, se non addirittura pari alla nostra, a prezzi che sono 10-15 volte inferiori. Si apre una guerra, una concorrenza verso il basso che è spaventosa. L'azienda italiana a questo punto deve disperatamente tentare di vendere all'estero, perché deve giocare qua invece che avere i soldi da qui, quindi deve mettersi in competizione con l'azienda cinese, con l'azienda indiana, brasiliana, portoghese, tedesca, che varano i tedeschi fra l'altro, quindi hanno anche i giochi truccati. Ma voglio dire, allora cosa deve fare un'azienda italiana? Non potendo più avere niente che gli entra da qua, deve tagliare da qualche parte. Dove va a tagliare? Nello stipendio dei dipendenti, perché deve vendere le scarpe, deve vendere l'orologio, deve vendere il carburatore del trattore a un prezzo inferiore al concorrente cinese, indiano e quell'altro. E allora si parte in una gara a ribasso micidiale, dove nella realtà per riuscire ad avere più investimenti da qua di quelli che noi portiamo all'estero, finiamo per distruggere i redditi italiani. Oltre al fatto che ho citato all'inizio, per cui a un certo punto questi possono decidere che in Italia non comprano più. Per cui io sinceramente devo dire una cosa. Se noi pensiamo, come pensano certi economisti, che secondo me nonostante studiano tanti anni e non sanno di cosa stanno parlando, se noi pensiamo che un paese si possa reggere su questa gara, pensiamo veramente alla rovina dell'Italia. Noi dobbiamo avere un governo, che è l'emissore della moneta, che ne può emettere tanto quanto gli ne pare, senza reali problemi, che faccia in gioco virtuoso. Spenda a deficit, specialmente nei momenti di bisogno, come sono questi, questi anni e di adesso. Noi abbiamo l'economia italiana che si sta avvitando disperatamente, e c'è bisogno di un intervento del sovrano, di chi può emettere la moneta, per iniettare beni finanziari qua dentro, vuol dire creare piena occupazione, impiegare tutti i disoccupati che sono stati resi disoccupati dalla crisi economica, impiegare i sottoccupati che sono laureati e lavorano per 800 euro, per 600 euro, creare le infrastrutture per rinacciare le aziende italiane, come hanno fatto i tedeschi, mentre dicevano a noi di non farlo, e non potevamo farlo perché era spesa pubblica, loro lo facevano barando, cioè fare tutta quell'opera di iniezioni di beni finanziari qua dentro che rilancia il Paese. Questo noi dobbiamo fare, contare su questa gente, ma attenzione. Ok, lo schema che abbiamo appena visto si può riprodurre in questo senso, in cima c'è il sovrano, cioè il governo, il governo, è in cima a tutto, d'accordo? Sotto al governo, questa è l'emissore della moneta, sotto al governo c'è tutto il settore non governativo, che comprende banche, aziende, famiglie. Abbiamo visto che il governo può decidere di operare con la spesa virtuosa, tassare meno di quello che spende, d'accordo? Questo è. Guardate questa piramide. In cima c'è il sovrano, la Banca Centrale Europea, emissore della moneta, sotto ci sono le banche internazionali e europee e qua c'è il settore non governativo, che invece di avere banche, famiglie e aziende, ha governo, aziende, famiglie e banche commerciali, ce ne mettiamo anche quelle. Ok? Che cosa è successo? Cioè è stata creata l'Eurozona. Cosa vuol dire? Questo era l'emissore sovrano della moneta, le lire, i dollari. Qui c'erano monete sovrane, i dollari esistono ancora, sono ancora sovrani. Ok? Questa è l'emissore dell'Euro, moneta sovrana adesso, solo che l'emissore della moneta, colui che poteva fare questa operazione, è diventata una banca, una banca centrale europea, formata da 17 banche centrali nazionali. Ok? Quando questo signore crea il denaro, cosa fa? Non fa come faceva questo signore qua. Il governo crea spendendo. Costruisce l'ospedale, paga lo stipendio pubblico, fa l'infrastruttura, eccetera, paga il poliziotto e il pompiere. Quando l'ABC crea il denaro, lo emette dentro le banche di investimento internazionali europee, ok? Le quali banche internazionali di investimento europee prestano il denaro, gli euro, direttamente al governo che sta nel settore non governativo. Cioè il governo italiano è diventato esattamente come il signor Mazzetti, qua dentro, che per comprare l'auto va alla finanziaria sotto casa e dice ho bisogno di soldi per comprare l'auto. E la finanziaria gli dice te li do all'8%, prenderlo e lasciare. Questo succede adesso con l'euro. Il governo italiano va dalle banche, che hanno ricevuto gli euro direttamente dalla BCE e dice ho bisogno di soldi per pagare gli stipendi, per fare le infrastrutture, eccetera, ok? Perché devo darli alle aziende, devo darli ai miei cittadini, eccetera. Le banche dicono ok, 5%, 6%, 7%, ci fidiamo, non ci fidiamo. Lo spread, lo spread, i tassi che si alzano, draghi che deve intervenire, la paura, l'Italia fa default, siamo nei pigs, la vergogna dell'Europa, eccetera. È tutto questo il discorso. Devo restituire ogni centesimo a questi usurai che stanno qui e questi non perdonano. E se non glielo restituisco non me ne danno più, perché io non posso più crearlo. L'Italia non crea gli euro, non può creare, stampare un singolo euro. Non può. Non è più l'emissore degli euro. Ma come? Noi eravamo in una condizione dove avevamo un governo dal 1948 fondato dai padri costituenti della Repubblica Italiana che poteva inventare i soldi, spenderli a deficit per la cittadinanza, arricchirci tutti senza creare disastri economici. E siamo stati un paese benestante dal 1948, sostanzialmente, diciamo, fino al 1999. Come? Io ero in una situazione del genere e adesso mi ha messo qui e non posso più fare niente. Ma come? Ma cosa è successo? È stato creato l'euro. Ma come è stato creato l'euro? Ma non era la nostra fortuna. Ma non era l'arricchimento dell'Italia. Non era il grande rilancio economico. Ma non era la fortuna dei cittadini. No. Non vi hanno spiegato come si crea l'euro. Vi hanno ingannati. Vi hanno fregati. Questo è un progetto che ha 70 anni. Pensato da economisti, macroeconomisti e banchieri europei che conoscevano il funzionamento della moneta alla perfezione e che sapevano che il signor Knapp, assieme a Keynes, assieme a Inns, assieme a Godley, assieme a tutti quelli che sono venuti dopo, assieme a Kaleski, altro grandissimo economista dimenticato, sapevano che questi avevano capito come funzionava la moneta dello Stato. Avevano capito benissimo che lo Stato poteva tranquillamente usare la moneta per tutelare il 99% dei suoi cittadini e creare piena occupazione, pieni servizi sociali, pieni infrastrutture, piena produzione aziendale, aiutare le aziende, cosa che gli Stati Uniti hanno fatto all'infinito, fra l'altro. Voglio dire, ok? Hanno capito benissimo come funzionava. Allora a questi hanno detto, no, 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 no. Questa cosa non ci piace. Troppo potere alla gente, troppo potere al popolo, troppo potere alle piccole e medie imprese, troppo potere a questo popolino di ignoranti, aperte le virgolette, chiuse le virgolette, a questi outsider rompicoglioni, Walter Lippman, uno degli ideologi di questo disastro americano, che scriveva, noi siamo gli outsider rompicoglioni, ok? No, 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 bisogna fare un'altra cosa, bisogna togliere a questo Stato questa capacità, perché altrimenti acquisisce troppo potere, c'è troppa democrazia e questo non ci va. Eravamo i padroni del mondo nel Settecento, nell'Ottocento, torneremo i padroni del mondo. Ecco cosa si sono inventati. Questo. E in questo sistema noi siamo finiti. Qua non si può uscire. Può intervenire Draghi a fare la sua uscita, che compra titoli di Stato, per cui adesso per qualche mese, qualcosina, respireremo un po' d'ossigeno. Cioè, come dire, siamo sotto l'acqua completamente, ci tirano fuori di una narice. Ma scusa, io non voglio stare sotto l'acqua di una narice, io voglio stare fuori dall'acqua, respirare bene e essere contento. No, Draghi interviene, abbiamo una narice fuori dall'acqua, ok? Va bene. Ma perché dobbiamo stare in questa condizione?